Siamo quasi al rush finale di questa campagna elettorale, ci sarebbero tanti aggettivi per descriverla, Fabio Granata oltre laddove qualcuno non arriva non può o non vuole andare. Questo è un problema degli altri, a noi interessa la città e la città ha capito questo nostro importante messaggio che non serve molto per far tornare Siracusa la più bella e la più grande e le città greche come Cicerone la definiva. Serve però tanto buonsenso, rigenerare gli spazi partendo da tutta l'area metropolitana, non deve esistere più un centro e una periferia, deve esistere un'unica grande Siracusa ricuscita nella sua unità urbanistica, curata nei suoi spazi verdi, rigenerata nelle sue strade, nei suoi trasporti pubblici e soprattutto nell'aria che respiriamo e nell'acqua che beviamo, acqua potabile, rigenerazione green della raffinazione. Come pretenderemo con una class action il risarcimento di tutto ciò che in termini di veleni ha comportato il disastro ambientale e industriale di questa città. E poi una squadra straordinaria, tanti giovani, tante persone importanti all'interno delle mie liste, tutte con il codice etico rigidamente firmato, gli altri fanno orecchio dei mercanti e fingono di non capire cosa vogliamo dire, cambiano discorso, chiedono il sequestro dal prefetto, questa mi fa un po' ridere perché è un'altra delle trovate di Enzo Vingiullo, che comunque siamo abituati da anni alle sue trovate e insomma si va avanti cercando di dare alla città un messaggio sereno ma molto chiaro. Questa città deve cambiare e per cambiare deve avere assoluta legalità, metodo, controllo del territorio, regole e una visione. Questa visione passa dagli elementi essenziali. In giunta con noi abbiamo l'ingegnere Raimondi che proprio su questo quartiere ha lavorato molto sul canale di Gronda e su una delle necessità principali su cui anche con i nostri candidati, iniziando da Melissa Gullici, siamo spesso confrontati. Quindi forse è bene che ne parli un po' lui o Melissa chi vuole, forse l'ingegnere di questa vicenda. Passiamo la parola allora all'assessore Raimondi. Siamo al villaggio Miano dove si lavora finalmente per questo canale di Gronda. Lei ha dato una mano in questo al candidato Granata. Avete una visione precisa? Assolutamente sì. Le problematiche del canale di Gronda ormai partono da tanto tempo. Insomma ci ho lavorato anche cercando di sollecitare non solo l'amministrazione ma anche gli organi di stampa per un problema che qui esiste e che si ripete puntualmente ogni anno al primo scroscio di pioggia. Abbiamo tanti concittadini che ad ogni temporale rimangono praticamente sott'acqua e questo crea parecchi problemi. Crea problemi agli esercizi commerciali, crea problemi ai cittadini stessi. Qui è stata realizzata una parte di un intervento che avrebbe dovuto risolvere in maniera definitiva questa problematica. e ovviamente quando si fa un lavoro al 50% e non lo si completa spesso ovviamente non si risolve il problema. Quindi la nostra priorità è sulla realizzazione dei collettamenti che da via Ozanam devono condurre al via Epipoli in maniera tale che poi vi sia questo sbocco delle acque al canale di Gronda che peraltro è già stato realizzato. e soprattutto questo permetterà a tutti i cittadini finalmente di poter vivere in maniera più serena un fenomeno naturale che può essere un temporale. Ecco io però vorrei anche soffermarmi, mi fa piacere che siete qua, alle condizioni di questo giardino che rappresenta anche il sindolo dello stato di abbandono in cui verso non solo questo quartiere ma anche questa è una dimostrazione della scarsissima attenzione che l'amministrazione ha rivolto ai quartieri periferici della città. Ecco noi guardiamo qui quanti bambini stanno giocando quanti ragazzi in condizione ovviamente diciamo assolutamente precaria. Ecco questo dovrebbe essere un angolo del villaggio Miano assolutamente da rigenerare per ridare dignità, per ridare decoro a questi nostri piccoli concittadini che rappresentano il nostro futuro. Ecco questo, in questo paesaggio sta il fallimento di tutta diciamo la classe politica che ci ha governato ahimè negli ultimi anni. Grazie Raimondi, parliamo di questa campagna elettorale, Granata non è sicuramente nuovo alle campagne elettorali da deputato nazionale, regionale, assessore, anche assessore comunale però stavolta non c'è il partito dietro, non si fa una campagna elettorale individualista ma io vedo qua una squadra granitica forte, siete tutti compatti e avete degli obiettivi da condividere sicuramente con i cittadini. Il partito, il mio antico partito non c'è né dietro né avanti nel senso che è scomparso e grazie al berlusconismo è scomparsa la destra politica italiana. Noi siamo andati oltre insieme a tante persone che provengono da ogni orizzonte politico penso a Fausto Consiglio che è il portavoce di oltre, il fratello del combiandonino ma anche un personaggio importante nella storia della sinistra siracusana penso allo stesso Raimondi, a D'Amico, a tanti altri, Marinella Muscarà però anche tante persone, tante storie politiche legate alla destra di questa città Pippo Veneziano, Camillo Biondo, Massimo Torneo, tanti. E allora il tema vero è che noi crediamo che bisogna fare un bassino avanti per rigenerare la città oltre le categorie del Novecento che non servono a nulla cioè la demarcazione tra chi crede che tutto abbia un prezzo e che sia in vendita, uomini, cose, pezzi di territorio e di paesaggio, città e chi crede che ci sono cose che hanno valore come questo giardino che va rigenerato questo quartiere che va risanato chi continua a mettere nelle proprie liste personaggi che sono legati al prezzo certamente non dà un contributo nella giusta direzione noi da domani apriamo l'ultima fase della campagna ETOE e riprenderemo lo stile con il quale l'abbiamo portato avanti in questi mesi non parleremo mai più degli altri non ci interessano le loro polemiche facciano i conti con la loro coscienza e con ciò che ritengono fare noi andiamo avanti sulla strada della rigenerazione della città perché abbiamo la netta percezione che i siracusani questa volta stiano capendo stiano capendo anche il mio gesto di candidarmi non volendo tornare in Parlamento non volendo avere ruoli nel governo della regione ma dedicandomi con la mia esperienza acquisita tu hai detto non è nuovo certo sono antico però non sono vecchio antico nel senso che ho acquisito consapevolezza è una visione modernissima di ciò che si deve fare ma collegata alle radici e io credo che tutto questo legalità, difesa dell'ambiente, della salute e soprattutto rilancio del lavoro e il lavoro qui lo rilanciamo soltanto se tutto ciò che l'ingegnere Raimondi D'Amico e gli altri raccontano viene attuato dobbiamo rilanciare questa città e per rilanciarla la dobbiamo rigenerare rigenerandola lavoreranno maestranze, progettisti, imprese e sarà una bella Siracusa una bellissima Siracusa tocchiamo un attimo i punti salienti del programma possiamo parlare della sanità c'è un progetto per il polo oncologico una vostra idea oppure anche della zona industriale che sicuramente non va smantellata come molti sospettano no, non lo sospettano è una posizione in assoluto malafede degli stessi che hanno tradito gli operai in nome degli interessi dei petrolieri il Partito Democratico e Forza Italia prima di ogni altro sono sempre stati appiattiti sugli interessi della grande industria noi difendiamo gli operai e difendiamo i cittadini quando i siracusani aprono la finestra e sentono puzza non è puzza che entra nel loro naso ma è veleno che entra nei loro polmoni questo tema della sanità è una grande emergenza noi vogliamo abbiamo creato un assessore alla salute non alla sanità con l'IA Contrino vogliamo monitorare la situazione gestire noi il registro tumori visto che altri non hanno voluto gestirlo e indicare con forza che soltanto attraverso il risanamento ambientale la rigenerazione green della raffinazione petrolifera riparte non solo questa città perché lo stesso metodo che ho applicato nelle politiche culturali col distretto del Valdinote del Sud-Est si deve applicare nelle politiche industriali io devo collaborare con i sindaci di Agusta con quello di Priolo con quelli di Melilla a prescindere dall'appartenenza politica perché dobbiamo essere una squadra che pone una class action all'industria e dice se voi avete cambiato le proprietà dalla Erg alla Lucoil se le avete cambiate dalla Esso agli Algerini con centinaia e centinaia e miliardi di euro e non avete ritenuto nei contratti di mettere come necessarie le bonifiche e il ritorno sul territorio degli enormi guasti anche attraverso un polo ongologico lo faremo noi costituendoci in tutte le sedi costruendo il polo ongologico ma senza costruire nulla siamo reduci da una visita a una delle più grandi sorprese ed enigmi di questa città l'enorme spazio 160.000 metri quadrati di costruzioni meravigliose e di vegetazione costituita dall'ex ONP collegata al vecchio ospedale Riz e qualcuno ancora pensa di costruire altri casermoni solo per avvantaggiare probabilmente il possidente di qualche terreno oppure chi dovrà costruirlo noi non vogliamo più costruire nulla vogliamo aggiustare questa meravigliosa città la seconda questione sono i giovani perché vogliamo rilanciare l'università vogliamo rilanciare la rete delle scuole far ripartire l'architettura all'altezza della storia di architettura creare un polo tecnico legato al design industriale al recupero ambientale alla costruzione dei materiali tipici delle bonifiche la bioedilizia le bonifiche attraverso i vegetali cioè c'è tutto un mondo innovativo che dobbiamo aprire a Siracusa quindi antichità e modernità l'antichità legando a Brent Int a Brent Grande Parco archeologico creare 365 giorni l'anno la valorizzazione del più grande sterminato patrimonio archeologico probabilmente del mondo quindi può essere una città ricchissima il problema è se tutto questo viene lasciato nelle mani di chi fa affari e non si occupa dei beni comuni questo non avverrà mai noi ci candidiamo per una volta si può fare lo sappiamo come fare e lo vogliamo fare perché abbiamo fatto questo strano manifesto con la banda diciamo degli assessori e questo è indicativo di una questione è un'aggiunta tecnica si può dire così beh è un'aggiunta tecnica per noi che conta la politica amministrare una città non è amministrare un condominio è avere una visione noi abbiamo tutti una visione e non è una visione come dire omologata è dalla nostra diversità la forza ma nessuno di questi assessori è espressione di un partito e quindi collaboreranno tutti a un unico disegno che sarà un metodo fare il bene della città e dei cittadini e poi sulle l'ultima questione la voglio dire sulle aree più povere della città c'è una grande una grande prospettiva di risanamento della qualità della loro vita dal dato abitativo alla rete di supporto alle giovani coppie agli orfani agli anziani agli extracomunitari quindi bisogna aprirsi non chiudersi aprirsi perché questa città a me piace usare spesso questa immagine Gianvranco D'Amico forse non l'ha ancora sentita sono sette come i sette controtebbe ognuno di loro sarà presidio di una porta della città e difenderemo questa città da chi vuole continuare a sottometterla e a umiliarla in nome di interessi economici o in alcuni casi anche in nome di bande più o meno variegate che esistono all'interno anche della politica siracusana noi la vogliamo liberare e su questo progetto sulla povertà lavoreremo molto con Camillo Biondo con tanti altri saranno degli uffici speciali speciali e poi ho ritenuto di dare un segnale ecco questo ne approfitto per chiarire questo punto io ho un solo vitalizio 15 anni 20 anni di parlamentare a differenza di altri chiudendo lo studio perché per coerenza facendo il penalista non volevo fare l'antimafia e il penalista come qualche collega fa l'antimafia a parole e poi fa il penalista ho chiuso lo studio ho fatto per 15 per 20 anni il parlamentare ho un solo vitalizio di che mi basta più che basta per vivere molto dignitosamente sono un imprenditore culturale quindi ho la mia vita perfettamente realizzata e posso donare per accendere un capitolo di bilancio sulle nuove povertà della città l'intennità che informo chi ancora ha fatto finta di non capirlo che prenderei quindi rinuncerei a qualcosa come 3.000 euro netti al mese in un capitolo di bilancio non solo io ma tutti quegli assessori in tutto in parte che vorranno farlo perché ovviamente è un qualche cosa che poi dipenderà dalle loro condizioni soggettive perché non tutti hanno il vitalizio e non tutti possono farlo però alcuni hanno già detto che lo faranno in parte in quota a parte e questo è un segnale perché l'unico cambiamento possibile è quello delle idee che diventano azioni quindi è inutile che proclamiamo questioni contro la povertà noi diamo un segnale non contro la povertà ma di solidarietà verso quelli più poveri quelli più umili che devono tornare ad avere le stesse opportunità soprattutto i bambini e i giovani di tutti gli altri cittadini grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti